Salve a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale di Henry Loco E proprio adesso finita la partita tra Pordenone e Virtus Entella 2-0 per i Ramarri, finalmente si torna alla vittoria dopo l'inizio di questo campionato Allora, ottima vittoria per soprattutto, che anche aiuta a fare bene per il morale Analizzando velocemente la partita, primo tempo veramente noioso Infatti se non riuscite a dormire vi consiglio di riguardare il primo tempo e vi addormenterete immediatamente Azioni praticamente zero, ha fatto qualcosina in più lentelle in questi primi 45 minuti Ma nulla di particolare da nessuna delle due squadre Secondo tempo invece si vede che è già meglio, si vede che le squadre sono più propositive E il Pordenone, grazie a una ripartenza, riesce a segnare con il segno Mazzocco Che appunto al 51esimo porta in vantaggio la squadra nero-verde, giustamente Poi la partita sembra un po' sbloccarsi, anche se appunto si rimane sull'1-0 fino a arrivare al 70esimo all'incirca Dove ci sono diversi cambi, entrano anche altri giocatori e vengono sostituiti nei nostri punti Infatti ho visto un po' Boccalone un po' spento Anche c'è nel senso, lui corre sempre tanto, dà del tutto Però dopo di perdere tanto in zona del gol insomma E niente, quindi attraverso punizione di Burrai andiamo molto vicini al gol del 2-0 E poi, anche quando entra Tremolada Ci sono diverse ripartenze Prima con, come si chiama, Ciorria Che potrebbe passare invece a tira, non ce la fa Poi, insomma, ancora di nuovo Tremolada Che prima becca il palo Prima sfiora il palo, colpo da est fuori E infine su punizione Tremolada becca il palo E arriva il gol di Barison all'ultimo Che era in posizione regolare, anche appunto fatto rivedere E quindi Pordenone riesce a portare a casa questa vittoria giustamente Anche Lentel ha creato il gioco lo stesso Ha avuto anche diverse azioni pericolose Mi ricordo una che dalla destra ha fatto un cortino molto potente Che ha tagliato intera area di rigore Nella capicola è stato molto vicino al segnale Però oltre a qualche azione, insomma, credo che il risultato sia corretto E il Pordenone meriti la vittoria Sono molto contento anche perché La squadra da serie è subito rialzata Si è subito sollevata rispetto alla caduta Il piccolo, così, la piccola prestazione negativa di Trapani E infatti sono contento appunto di questa reazione Anche perché il Pordenone non ha subito cercato scuse Anzi, come ha detto subito Tesser Ha iniziato, si è rialzato e ha iniziato a lavorare Questo è un atteggiamento che veramente mi piace molto Di queste squadre Quindi simuleggia la forza anche del gruppo che c'è Sono veramente molto contento E parlando anche un po' dei single Mi è piaciuto Allora, in generale, la linea difensiva è stata tutta positiva Il Gasbarro ha sofferto un po' di più Gasbarro ha sofferto un po' di più Mentre Vogliacco un po' meglio così non gli esterni A centrocampo, oltre Mazzocco che ha fatto il gol Sono contento Tutto sommato sono sia contento di quello che ha fatto Burrai E anche Pobega Certo, è stato munito anche Pobega all'inizio Però lo stesso ha fatto una buona prestazione In attacco un po' meno Gavazzi nel primo tempo male Cioè nel senso non si è visto più di tanto E le punte, ciurrie, candellone Dico quelli titolari E così così Più che altro perché Non sono stati sempre ben servite Si vede, hanno sempre costo Specialmente candellone Cercando di prendere parecchi falli Però insomma Dalle punte vorrei qualcosa di più Nel senso perché Appunto il loro compito è segnare Fare gol e manca solamente quello Detto questo Sono veramente contento con la partita Noi ci vediamo Ne aspettiamo la prossima gara Che è quella appunto contro il Perugia di venerdì E sempre a forza da Marri Ciao ragazzi Ciao ragazzi